Ben trovati in appuntamento con dentro il consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del consiglio regionale della Toscana, ci soffermiamo al 26 di gennaio perché si è tenuta e come vediamo dai titoli la seduta solenne per il giorno della memoria, è stata presa una posizione netta contro il recente episodio antisemita dell'aggressione del 12enne della provincia di Livorno e poi si è presentato anche un libro Chi salva una vita, un volume di Alfredo De Girolamo edito dal consiglio regionale che ripercorre la storia dei giusti E quindi il consiglio regionale della Toscana ha celebrato con una seduta solenne il giorno della memoria in aula il vicepresidente del consiglio Stefano Scaramelli che ha aperto i lavori, ha detto ricordiamo la più grande tragedia il più grande crimine contro l'umanità, la Shoah. Poi anche lui si è soffermato ricordando l'episodio del ragazzo di Campiglia Marittima, il 12enne che peraltro è stato insultato da due ragazze di 15 anni è preso poi aggredito con sputipugni e calci perché detta delle ragazze appunto era uno sporco ebreo Il ragazzino ha avuto il coraggio di denunciare la Toscana è terra dei diritti, di tolleranza, di solidarietà, di accoglienza e di civiltà queste le parole appunto di Scaramelli. Poi c'è stato anche lo storico Michele Sarfatti nato a Firenze nel 52, la sua famiglia si riparò in Inghilterra durante le persecuzioni e poi rientro in Italia è considerato uno dei maggiori esperti delle regi razziali e della storia degli ebrei del Novecento fu insignito anche del Pegaso da parte della regione Toscana Il presidente dell'Assemblea Legislativa Antonio Mazzeo con Eugenio Gianni era a Roma per l'elezione del Presidente della Repubblica ma è intervenuto da remoto E' importante esserci nel giorno della memoria perché quello che è accaduto non accada mai più sembra tutto così scontato ma basta vedere quello che è accaduto soltanto pochi giorni fa a Campiglia Marittima un ragazzo preso di 12 anni preso a calci e sputi soltanto perché è ebreo e allora penso che il nostro lavoro di ricordo ma anche di racconto alle ragazze e ragazzi più giovani specialmente nel tempo in cui non ci sono più quei sopravvissuti degli orrori del nazifascismo sia importante Durante la prima votazione del Presidente della Repubblica alla Camera ho avuto il piacere di incontrare e di parlare con Liliana Segre A Liliana Segre ho detto grazie, grazie perché attraverso le sue parole, attraverso il suo racconto riesce ad arrivare a tante ragazze e a tanti ragazzi Allora a noi il compito, quello di essere amplificatori della memoria perché quello che è accaduto non accada mai più perché quelle violenze, quelle aberrazioni che hanno segnato la vita di milioni di cittadini della nostra Europa non accadano mai più nel presente, è una sfida di tutti, è una sfida collettiva e lancio solo un grande messaggio a tutti noi Non giriamoci mai dall'altra parte, non siamo mai indifferenti perché attraverso l'indifferenza possono nascere le più grandi violenze Una seduta solenne che ho avuto l'onore di presiedere, una seduta che ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica alla memoria ovviamente del crimine più grande commesso dall'uomo contro l'uomo Una seduta che ho voluto aprire ricordando e denunciando i fatti successi ieri nelle giornate precedenti a quella della giornata della memoria in merito ai fatti accaduti nel Livornese perché quello che è successo è molto grave, l'abbiamo denunciato, abbiamo chiesto qualora possibile al Consiglio regionale di costituirsi anche parte civile perché la Toscana è terra di diritti, è terra di solidarietà, è terra di rispetto e quanto è successo da due ragazze di 15 anni al cospetto di un ragazzino di 12 anni chiede giustizia, il concetto di giusto è un concetto importante, molti ebrei sono stati uccisi, deportati e la memoria di un Consiglio regionale che deve ricordare quanto è successo è impossibile comprendere quello che è successo ma è impossibile dimenticare dobbiamo ricordare quanto è avvenuto, questo che è il crimine più grande commesso dall'uomo e credo che noi, la nostra terra, la Toscana, non possiamo far altro che denunciare quanto è successo ma stare vicini al ragazzo, alla famiglia, far sentire loro stessi parte attiva della Toscana e mi auguro che il Consiglio regionale e la Regione sarà loro vicino e potrà dare loro tanto di quello che magari solamente in questi giorni è stato tolto rispetto al diritto, alla propria libertà, all'espressione a essere se stessi. Ci si chiede ancora troppo spesso se sia ancora così indispensabile avere giorni come il giorno della memoria in cui si ricorda un episodio, si ricordano una parte della nostra storia, una parte della storia europea con cui l'Europa stessa ancora oggi fatica a fare i conti. La risposta è l'episodio che è accaduto nei giorni scorsi contro il bambino che è stato aggredito a Campiglia Marittima per le sue origini. Ecco, la risposta è quello, sì, è indispensabile. È indispensabile fare memoria di quella che è stata la nostra storia, conoscerla fino in fondo perché non si ripetano più questi episodi e soprattutto perché non si commetta un errore molto grave che è quello di accomunare tutti i totalitarismi, tutti gli episodi terribili, tutti gli eventi drammatici che la storia europea e direi mondiale ha conosciuto perché solo dalla conoscenza profonda delle radici di questi fatti si riesce a trarre gli antidoti per il giorno di oggi. Io credo che noi dobbiamo veramente essere impegnati a promuovere la cultura della memoria affinché l'umanità, affinché il diritto, affinché la pace siano conquistati giorno dopo giorno e perché i fatti che anche oggi ricordiamo veramente non accadono mai più. Questo è l'impegno che le istituzioni, ma tutti noi come cittadini, ogni giorno dobbiamo aver presente per essere veramente pronti a contrastare questi fenomeni e soprattutto ad affermare invece sentimenti che sono legati alla civiltà, che sono legati all'umanità, che sono invece l'affermazione dei diritti. C'è l'esigenza di capire sostanzialmente che cosa si è verificato in Europa non soltanto durante e dopo la Shoah nell'immediatezza della liberazione dei campi di sterminio, ma come fu possibile arrivare a quei momenti, capire come la comunità internazionale in quel momento si comportò e come ci stiamo comportando oggi di fronte a situazioni che sono sostanzialmente, se non alla pari, ma rischiano di essere sostanzialmente l'anticamera di stragi più silenziose e che silenziose sono soltanto perché non sono filmate o non sono sotto l'attenzione dei media o della politica internazionale. Dobbiamo evidentemente ancora lavorare tanto sui nostri giovani, sui ragazzi, ma anche sulle persone adulte affinché si capisca fino in fondo il messaggio che vogliamo trasmettere, che deve essere comunque un messaggio di pace, di fratellanza e di vicinanza e ricordare in questo giorno, ma non solo in questo giorno, anche tutto l'anno, quanto è successo anche in Toscana, sui nostri territori, in quel periodo che è un periodo nero per tutta la storia mondiale, direi. Gli italiani non ebrei si sono comportati in centomila modi diversi. C'erano quelli che erano antisemiti, c'erano quelli che hanno lottato contro l'antisemitismo, in realtà abbastanza pochi all'inizio, anche perché il ventennio di dittatura aveva pesato molto e impedito specialmente alle giovani generazioni di ragionare sul presente. I sentimenti e i comportamenti di solidarietà sono cresciuti dopo quando è stata messa in discussione la vita stessa degli ebrei. In occasione della seduta solenne del Consiglio regionale per il giorno della memoria è stato anche presentato il libro di Alfredo De Girolamo, Chi salva una vita in memoria dei giusti toscani, edito dall'Assemblea legislativa toscana. Ricordare, ha sottolineato l'autore, vuol dire anche saper cogliere nella straordinaria rete di solidarietà che molti italiani, fra questi 150 toscani, misero in campo il senso della democrazia e il dispetto dell'alto. Ovviamente un riferimento chiaro anche a Gino Bartali, massimi artefici della rete di solidarietà. Tanti altri racconti comunque compongono il libro e la ricerca che servirà, conclude proprio De Girolamo, alle future generazioni affinché sappiano e non dimentichino quanto accaduto. Grazie di cuore ad Alfredo De Girolamo per averci voluto offrire questa sua nuova pubblicazione, Chi salva una vita? La storia dei giusti in Toscana. Per tanto tempo non hanno voluto raccontare queste figure, tra cui una delle più note è Gino Bartali, come salvarono tanti e tanti ebrei. Nel 1938 Vittorio Emanuele III firmò nel parco di San Rossore le leggi razziali e di nì fu l'inizio della fine. Tanti ebrei furono violentati, furono deportati, tanti ebrei subirono le violenze del regime nazifascista, ma ci furono tante donne e tanti uomini che non furono indifferenti, che non si voltarono dall'altra parte, che seppero dare il loro contributo e aiutarono tanti ebrei ad evitare i campi di concentramento e la morte. E in questo racconto, un racconto che nasce nel tempo, dopo tanti anni, perché loro per tanto tempo non vollero raccontare queste storie e che oggi invece sono messe a disposizione di tutti, perché questa giornata, la giornata della memoria, serve anche per dirci che quello che è accaduto non deve accadere mai più e che queste storie devono essere di monito e di esempio, perché la storia non ripeta tante atrocità. Sicuramente quella di Gino Bartali è una grande storia, molto spesso riproposta, perché era un campione già allora e poi lo sarà anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, che poteva anche tranquillamente voltare la faccia dall'altra parte. Invece non l'ha fatto e fu insieme a Delia della Costa, al Cardinale di Firenze, furono i massimi artefici di quella grandissima rete di solidarietà che vide cattolici, mondo del clero, ma anche tantissimi cittadini comuni decidere di mettersi a disposizione per aiutare gli altri. Noi toscani dobbiamo sempre sapere che ci sono stati in quegli anni bui terribili di tragedia, di genocidio, i più bui del Novecento, 150 toscani e tanti altri ancora che decisero allora di non voltare la faccia dall'altra parte e di mettere a disposizione loro stessi per salvare la vita di altri. Fossero stati ebrei o altro, secondo me era poco indifferente, perché quando dentro si sente e si ha un valore come questo, ieri può aiutare qualcuno, domani può aiutare qualche altro e nello stesso tempo decidere di vivere in un paese dove ci sia la democrazia e dove ci sia il rispetto degli altri. Bartali partiva per andare ad Assisi, ti è stato bene ricordato nel corso della seduta del Consiglio Solenne quello che ha fatto Gino Bartali per salvare tante vite partendo appunto dalla mia teruntola e approfittando del fatto che diceva di doversi allenare, quindi portava questi salvacondotti fino ad Assisi. Questa è la storia anche della mia cortona, nel tempo sono stato legato a figure come Ivo Faltoni che è stato meccanico di Gino Bartali che tanto si è speso per ricordare. La memoria va concretizzata, personalmente io ho cercato di concretizzare la memoria andando anche personalmente ad Auschwitz con il trano della memoria è stata una delle esperienze più toccanti della mia vita. Credo che tutti dovremmo andare ad Auschwitz perché la memoria non è semplicemente un ricordare in una giornata ma è cercare di capire bene quello che è stato e che non deve più essere. Essere giusto vuol dire riuscire a dare il proprio contributo di giustizia in una società dove l'intolleranza e l'odio molte volte determinano la morte di tante persone, non c'è tolleranza, non c'è tirannia, non c'è dittatura, non c'è elemento che abbia poi portato non portato a una guerra, soltanto la giustizia è il vero vaccino al cospetto di queste grandi forme di violenza che l'uomo è stato in grado di compiere nei confronti di altri uomini. Per questo questo libro è una testimonianza di persone che hanno salvato altre persone e dove le persone non sono solamente numeri ma sono appunto delle persone, delle vite dove le persone possono a questo punto anche rispecchiarsi e prendere come modello. Questa testimonianza che ci regala Alfredo Di Girolamo è sicuramente un lavoro prezioso di ricostruzione intanto di verità storiche, di onore alle persone che non avendo esercitato l'indifferenza che spesso accompagna le abitudini di molti hanno salvato vite e con questo salvato il mondo come viene detto anche nel testo e quindi in qualche modo si conferisce eternità a questi esempi virtuosi e dall'altra parte si recupera e non si disperde una lezione di civiltà che certamente ci consegnano. Vale per gli episodi di oggi ma vale in generale perché ormai abbiamo capito da tempo che la democrazia e i valori non sono mai acquisiti una volta per tutte ma devono essere difesi giorno dopo giorno nel nostro agire quotidiano. Ricordare chi con l'animo degli italiani, dei toscani non volle piegarsi comunque a quelle che erano le leggi sbagliate di allora e volle con il proprio gesto appunto non girarsi dall'altra parte mettendo a disposizione se stesso perché potesse essere meno cruente, meno drammatica, meno tragica l'azione di quel tipo di norme con appunto l'intervento di tanti giusti che a quelle norme si opposero. I giusti che ha anche elencato splendidamente di Gironamo sono meno di quelli che ci sono stati perché? Perché tanti hanno come dire non si sono presentati poi sono morti i figli non l'hanno ricordato ma guardate davvero persone io c'ho l'esempio della mia famiglia la famiglia mia, mia sorella, mio padre, mia madre, io non ero ancora nato e le altre sorelle, insomma almeno dieci persone furono salvate dalla famiglia parlanti di Chiesino Ozzanese. Non hanno testimoni perché poi anche lì è complicato, però secondo me sono giusti, se non c'era loro non è nato nemmeno io, questo magari non importa a nessuno. Invece proprio Ugo Caffaz da sempre, artefici anche del treno della memoria, è importante anche per tanti ragazzi, per tanti giovani quello che sta facendo proprio per non dimenticare il nostro piccolo l'abbiamo fatto anche noi con questa puntata monotematica per tutti gli aggiornamenti, vi ricordo il sito internet www.inconsiglio.it. Io vi ringrazio per essere stati con noi, ci ritroviamo tra sette giorni, sempre qua, dentro il Consiglio. Grazie a tutti.